grazie eccomi buongiorno a tutti e grazie per questo invito vi dico subito non ero preparata a dover fare una passerella e a parlare dal pulpito però ci proviamo non sono neanche sicura di stare nei 20 minuti ma ci provo lo stesso io sono maria carla e da sei anni lavoro nel team digital di medici senza frontiere quello che vi voglio dire prima di tutto è che apparentemente le nostre realtà forse sono molto lontane ma in realtà è una differenza soltanto apparente perché voi come freelance siete liberi di scegliere i vostri progetti noi come medici senza frontiere siamo un'organizzazione indipendente che raccoglie fondi solo da privati cittadini e quindi siamo liberi di decidere dove portare la nostra assistenza medico-umanitaria e la portiamo dove c'è più bisogno di assistenza medico-umanitaria e ora vi parlerò un po' di come allora qualche parola in più su medici senza frontiere tutti sanno che siamo medici che lavoriamo in oltre 70 paesi ma non tutti sanno che quando nel 1991 siamo nati siamo nati da un gruppo di medici ma anche di giornalisti e questo vuol dire che noi siamo un'organizzazione che fa ma racconta anche quello che fa e quindi da una parte curiamo e salviamo vite dall'altra raccontiamo come lo facciamo perché crediamo che anche denunciare può salvare delle vite infatti quando nel 1999 abbiamo vinto il premio nobel per la pace durante la premiazione questa è la frase che è stata dichiarata con molta forza dall'allora presidente non siamo sicuri che le parole possano salvare delle vite ma sappiamo con certezza che il silenzio uccide quindi la denuncia parlare di quello che facciamo fa parte della nostra identità fa parte del nostro dna ma come facciamo io mi occupo di digital quindi di community management di social network di tutta questa parte qui la grande sfida è riuscire a parlare di crisi dimenticate di problemi di cui non si parla nei media sui social media quindi diciamo la sfida è come creare engagement e coinvolgimento rispetto a paesi molto molto lontani e di cui nessuno parla allora questa 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 slide ci vi fa vedere vi illustra dove è che abbiamo la maggior parte dei nostri progetti ed è dove investiamo la maggior parte dei fondi quindi c'è la repubblica democratica del congo il sud 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 yemen centrafrica tutti i paesi ora a parte lo yemen che con la guerra un po qualche volta nei tg e nelle inchieste viene fuori congo sud 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 centrafrica se ne parla pochissimo quindi noi cosa facciamo per coinvolgere le persone che ci seguono proviamo a raccontare le crisi provando a raccontare il nostro mondo provando cioè noi ci ci presentiamo come persone che aiutano altre persone e lo fanno con delle emozioni con delle emozioni che poi sono universali quindi puntando sul 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 nostro essere umani prima di tutto proviamo a raccontare come noi viviamo nelle nostre missioni nei nostri progetti allora questo è un piccolo video viene dalla repubblica democratica del da un villaggio perduto della repubblica democratica del congo e quindi come vedete sono pochissimi secondi di video noi abbiamo scelto di pubblicare questo video che ci è stato mandato dalla nostra ostetrica un sabato mattina e abbiamo chiamato il post che accompagnava questo video era il running club della nostra ostetrica ogni giorno diventa sempre più numeroso qui non è un'informazione sul congo ma è comunicare alla nostra community come noi viviamo nei progetti e quindi le emozioni di questa ostetrica che ogni giorno che andava a correre ci aveva sempre più bambini che la seguivano quindi qui è pure emozione ovviamente considerate che parliamo di congo molto spesso con comunicati stampa report e quindi anche delle informazioni molto molto pesanti però quello che cerchiamo di fare è raccontare anche come viviamo nei nostri progetti questo è un video che viene dal sud 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 è difficile raccontare un paese sconvolto da anni di guerra dove la gente scappa per cercare di sopravvivere spesso in condizioni miserabili qui l'emergenza è quotidiana si muore tutti i giorni si muore di parto si muore per malattie dimenticate così come per malattie facilmente curabili come la polmonite o come la malaria o prevenibili utilizzando delle semplici zanzariere come questa qua dietro o magari con delle vaccinazioni alle quali però la popolazione difficilmente avrà accesso pochi giorni fa durante un'attività di clinica mobili ho trovato una bambina sette anni la febbre altissima in coma l'abbiamo subito trasportata al centro sanitario mi sono dovuto fermare più volte lungo la strada per provare a trattare le convulsioni è rimasta cinque giorni in coma meningite polmonite malaria allo stesso tempo è davvero pensato che non ce l'avremmo fatta ma alla fine siamo un po così siamo abituati a non arrenderci e quindi domani la riportiamo a casa curata con il suo sorriso quel sorriso che dovrebbero avere i bambini in tutto il mondo 2018 sud sudan medici senza frontiere c'è con i suoi 17 progetti in tutto il paese ad affrontare l'emergenza quotidiana rimanete con noi quello che abbiamo fatto poi come strategia di social media è pubblicare questo video con un messaggio di buonanotte e pubblicarlo di notte quindi diciamo nella relazione che instauriamo con la nostra community siamo attenti anche a capire il momento che gli altri stanno vivendo per entrarci in relazione perché alla fine quello che si fa sui social media se sei un'organizzazione umanitaria è provare a condividere dei valori e riunire intorno a te persone che credono nei tuoi stessi valori no 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 sto facendo un disastro spoiler di me stessa ok allora questa è un'altra foto arriva da un villaggio del centrafrica sono due operatori umanitari italiani sono una coppia sono sposati e sono torinesi c'è un logista e infermiera ci mandano questa foto e era una domenica quindi loro era il loro giorno di riposo si svegliano prima preparano la pasta per tutto il team per tutto lo staff arriva questa foto a noi immediatamente decidiamo di pubblicarla perché è quello che viviamo nei nostri progetti quindi i due operatori italiani fanno la pasta fresca fatta in casa e invitano tutto lo staff e c'è un pranzo quindi anche in un contesto difficile come la repubblica centrafricana dove c'è una guerra civile una guerra una guerra religiosa in atto ci sono questi momenti di condivisione e anche questi noi vogliamo raccontare e questo viene dal bangladesh e niente qui ho dovuto chiedere al mio direttore possiamo pubblicarla questa perché un po' un'infermiera di msf con un cucciolo di animale non siete la lav perché no l'abbiamo fatto perché appunto non è la nostra missione che è cambiata però nel campo di cox bazar siamo in bangladesh ed è la crisi dei rohingya nel nostro compound è arrivato questo cucciolo ed era pura pet therapy per lo staff che lavorava giorno e notte quindi faceva parte dello staff di msf questo cucciolo la foto ci è arrivata e noi abbiamo deciso di pubblicarla e poi ci sono le persone che assistiamo quello che diciamo sempre che msf non dà voce a chi non ce l'ha perché le persone che sia che assistiamo hanno una voce fortissima profonda quello che noi dobbiamo fare è trovare delle orecchie disposte ad ascoltare queste voci quindi ogni volta che incontriamo persone come caron che hanno voglia di denunciare hanno voglia di farlo con la loro voce noi abbiamo sappiamo di avere in mano un tesoro e di dover fare tutto il possibile per poter far arrivare questo tesoro agli altri perché sentire la storia di caron e sentirla con le proprie orecchie è un privilegio che noi dobbiamo condividere per poter far arrivare il nostro corso che facciamo un po' per otto un po' non c'è una guerra, non c'è una dommaggia, non c'è una cosa ma è una cosa che vuoi fare e anche un po' di me ha detto che non c'è un po' di me perché non c'è un po' di me ma non c'è un po' di me non c'è un po' di me ma non c'è un po' di me E' un'altra cosa che si tratta di qui, perché ci sono stati qui? Perché non vogliamo. E' un'altra cosa che si tratta di qui. E' un'altra cosa che si tratta di qui, per il 25 giorni. Perché ci sono stati qui 7 o 8 giorni. E' un'altra cosa. E' un'altra cosa. Questo non è un'altro, ma non è un'altro, ma è un'altro. Un'altro è proprio un'altro. E poi ci sono anche un'altro. Il è un'altro. Il nostro bambino è quello che almeno gli eroiари, ci sono un'altro. Io lo so che questo non è il modo migliore per cominciare un sabato mattina, però questa storia viene dal campo di Moria, isola di Lesbo e la sofferenza di questa famiglia è la conseguenza dell'accordo tra Europa e Turchia che ha intrappolato migliaia di persone su quest'isola, in questo centro. Un posto che doveva ospitarne 3.000 ne ospita oggi oltre 15.000 in condizioni disumane, il 40% di queste persone sono bambini, bambini che non stanno andando a scuola, lunghe file per ricevere un pasto, un sacchettino dove dentro c'è, un pomodoro, un uovo e delle merendine e continua a succedere in Europa. Questa è un'altra storia che abbiamo avuto il privilegio di ascoltare a Ventimiglia, una ragazza che transitava da Ventimiglia, l'obiettivo era di arrivare in Francia, poi è arrivata in Francia. Noi l'abbiamo incontrato con la sua mamma, le piaceva molto cantare e ballare, con la mamma abbiamo deciso di fare questo video e poi abbiamo deciso di pubblicare questo video nelle giornate di Sanremo, quando c'è Sanremo in Italia, quindi abbiamo utilizzato quell'hashtag per diffondere questo video. I have a lot of hobbies, I love singing, dancing, I'm not a good dancer, but one day I will learn how to dance, we need to take it back in time, music may the song unite, when I'm listening to music and when I'm singing, I feel beautiful feelings, really, and the people love my voice, so I feel happy. I would like to be a doctor one day, I would like to be a doctor one day, it gives me a beautiful feeling inside, to make people happy, and help them. It's just about living a beautiful, happy life, it's just in the assembly. Questa è invece una storia, è il primo bambino di Van che abbiamo fatto nascere nelle nostre attività di ricerca e soccorso, è nato a bordo della nave Dignity, stiamo parlando del 2015. Quello che è successo è che una persona del nostro staff è rimasta in contatto con la mamma e abbiamo scoperto che la mamma era in un centro di accoglienza a Rieti. In occasione del compleanno del bimbo che compiva un anno abbiamo deciso di andare, di andare a fare semplicemente gli auguri come Medici Senza Frontiere e l'abbiamo raccontato, l'abbiamo raccontato alla nostra community. Grazie a tutti. 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 un po' più leggera uno degli obiettivi è anche provare a parlare a target giovani perché naturalmente MSF raggiunge un pubblico diciamo over 40 quindi quello che abbiamo provato a fare con questo progetto Epidemia Creativa è coinvolgere giovani artisti nell'aiutarci a raccontare quello che facciamo per un pubblico giovane quindi è nata questa collaborazione con la scuola internazionale di comics di Roma e abbiamo chiesto agli studenti di interpretare e raccontare con un'immagine le malattie che curiamo e che incontriamo Sudan, Centrafrica i paesi di cui prima e quindi loro le hanno interpretate e questo progetto è stato un progetto che abbiamo spinto soprattutto su Instagram quindi poi ognuno degli artisti con una Instagram Stories ha raccontato il perché e ha descritto il suo progetto, l'idea e perché la malaria è stata disegnata così perché il morbillo è stato disegnato con un ombrello l'HIV è un po' più chiaro la meningite con la cintura della meningite ebola e la tubercolosi io non so quanti minuti ancora ho perché non ho sarebbe bello anche delle domande e t-shirt allora una di queste t-shirt la indosso è questa qui è stato un progetto molto bello dopo in realtà è ancora in corso però diciamo dopo tutto il dibattito il forte dibattito sulle questioni sulle nostre attività di ricerca e soccorso come Medici Senza Frontiere l'anno scorso abbiamo sentito l'esigenza di fare una campagna per ristabilire e per diffondere e riflettere su quella che è l'essenza dell'azione umanitaria e cioè l'aiuto imparziale nel momento in cui decidi di aiutare esiste un solo aiuto l'aiuto che non fa differenza quindi abbiamo lanciato questa campagna umani e all'interno della campagna umani abbiamo deciso anche di coinvolgere degli artisti per darci una mano a esprimere questo concetto dell'aiuto imparziale e l'abbiamo fatto con una piattaforma che è quella di World Wearing che è di base dove si possono acquistare t-shirt dove le organizzazioni no profit possono vendere le proprie t-shirt però è stato un progetto in cui abbiamo cercato un coinvolgimento dall'inizio quindi facendo una call for artist e chiedendo ad artisti famosi emergenti e non avete voglia di fare un disegno per noi quindi abbiamo fatto un brief abbiamo fatto questa call for artist ci sono arrivati più di 300 disegni non ci aspettavamo tutta questa partecipazione è stata così tanto alta che abbiamo dovuto scegliere perché non potevamo creare 300 magliette diverse ma per scegliere abbiamo chiesto l'aiuto della community quindi abbiamo pubblicato tutti i disegni su Facebook e abbiamo chiesto alla community di darci una mano a scegliere quelli con più like sono diventati delle magliette poi ci sono stati anche artisti molto disegnatori famosi che ci hanno regalato ci hanno donato una t-shirt uno di questi è Makox questa maglietta è stata rilanciata anche a Propaganda Live e quindi poi insomma il progetto si è diffuso molto più di 10.000 persone hanno acquistato una t-shirt su questo sito quindi è stata per noi è stato un progetto di successo perché indossare una maglietta con un messaggio è molto più che condividere un post tu indossi un messaggio di umanità quindi noi e la cosa bellissima è che molto spesso girando per Roma vedi una persona che ha quella maglietta cioè la vedi è visibile le persone l'hanno veramente acquistata e c'è quello sguardo di intesa insomma bello perché vuol dire che il progetto è veramente arrivato alla gente quindi dall'online all'offline abbiamo ingaggiato la community anche chiedendo poi alle persone avete comprato la t-shirt mandateci una foto di voi che la indossate e anche lì ci sono arrivate migliaia di foto io chiudo presentandovi un po' questa campagna credo che avete diciamo il materiale nella borsina quindi forse già la conoscete veramente vi dico pochissimo così poi lasciamo spazio alle domande vent'anni fa quindi dopo il premio Nobel abbiamo deciso di lanciare questo progetto la campagna per l'accesso ai farmaci essenziali perché in realtà quello che vedevamo è che esistono delle barriere economiche e legali che non permettono alle persone di ricevere i farmaci e le cure di cui hanno bisogno dopo vent'anni purtroppo spesso ci troviamo a essere medici senza farmaci cioè non abbiamo i farmaci per curare le persone farmaci salvavita che potrebbero salvare vita e noi non ce li abbiamo perché sono inaccessibili perché costano troppo e quindi è tutta una campagna per chiedere l'accesso alle cure per tutti perché quello che ci chiediamo è a cosa serve un farmaco se le persone che ne hanno bisogno non possono permetterselo quindi questa è una piattaforma per fare un campaigning e raccogliere anche adesioni di persone che fanno campaigning insieme a noi c'è un giochino che è quello stile Space Invaders in cui giocando in realtà si fa esperienza di quali sono gli ostacoli da abbattere gli ostacoli da abbattere sono i prezzi elevati dei farmaci la poca trasparenza delle case farmaceutiche il fatto che la ricerca si basa soltanto su malattie e problemi che di base colpiscono più il mondo occidentale che i paesi in via di sviluppo quindi è proprio una campagna che dice che in realtà l'accesso alle cure per tutti non è una questione di beneficenza ma è una questione di giustizia quindi se insomma visitate il sito e decidete di far parte della campagna noi siamo qua ora io ho finito la mia presentazione e se ci sono domande grazie mille Maria Carla io penso che questo sia veramente un ottimo modo di passare di iniziare un sabato mattina e credo che anche le persone qui siano d'accordo io volevo anche chiederti se poi dopo noi abbiamo durante la giornata sia fra dopo il prossimo intervento sia oggi pomeriggio dei momenti di discussione libera nei vari spazi di questo non dal pulpito quindi non dal pulpito esatto quindi se tu volessi ne potremmo dedicare uno a lavorare nel non profit perché penso che poi anche in sala ci siano altre persone che magari hanno avuto esperienze e però se ci sono delle domande anche adesso c'è qui il microfono quindi se qualcuno ha una domanda subito da fare la possiamo una o più di una domanda te ne faccio una io intanto se non ne arrivano dal pubblico le persone con cui lavorate voi per le campagne sono tutte persone dell'organizzazione dipendenti assolutamente no lavoriamo molto spesso con agenzie per esempio spazio alle cure è un esempio quindi lavoriamo molto anche con freelance con agenzie più o meno grandi abbiamo bisogno di creatività esterna perché abbiamo bisogno di una mano per raccontare bene quello che facciamo in una maniera diversa con una prospettiva diversa quindi non è tutto interno quei video che avete visto e che vi ho raccontato sì però quando parliamo di campaigning molto spesso abbiamo bisogno di un aiuto esterno che ci dia una mano a impostare tutto ti ringrazio direi che non ci sono domande quindi le rimandiamo al momento di laboratorio così poi magari non c'è tutto quanto spazio grazie 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 grazie